Nel primo tempo c'è stato questo callo di tensione, un po' me l'aspettavo, quando giochi tante partite a mille ci sta un callo di tensione, è arrivato domenica, purtroppo la reazione del secondo tempo non è bastata per pareggiare una partita che con un pizzico di fortuna magari potevi anche pareggiare. Mister, soltanto callo di tensione e anche un po' appannamento fisico forse nei giocatori chiave del Marcenese? Fisico non credo perché poi alla fine gli ultimi 20 minuti sono loro che non ne avevano più, noi fino alla fine abbiamo creato, abbiamo spinto fino alla fine, diciamo un attimino per la prima settimana ci siamo allenati sul sintetico e quindi magari ecco questo cambio di superficie qualche problema ce lo poteva creare, infatti ce l'ha creato, Citro ha giocato credo al 50% perché aveva un piccolo risentimento, così come Michele Ciano l'ho sostituito perché avevo visto che c'era qualcosa che non andava, infatti oggi si è presentato al campo col flessore in mano, insomma ha bisogno di un paio di giorni di riposo, avevo visto che qualcosa non andava, il sintetico diciamo ti crea queste problematiche, speriamo di superarle perché questi sono giocatori per noi importanti e abbiamo bisogno che siano al 100%. Mister, una nota lieta molto positiva di domenica e l'ingresso di Gerardi ha dimostrato personalità, oltre a Belfa, la punizione che ha colto l'incrocio dei Vali e per poco non faceva l'uno a uno, il ragazzo ha dimostrato molta personalità a Manfredoni. Ma è un ragazzo che ho voluto fortemente, l'ho allenato due anni fa in primavera, Juve Stabia, il suo è solo un problema di condizione, sta con noi da 20 giorni, non ha fatto la preparazione, quindi aveva bisogno ancora di un po' di tempo, abbiamo visto con la cavese, ha giocato dall'inizio, ha fatto un po' fatica, però diciamo che da quella partita sono passati diversi giorni, il ragazzo si sta allenando bene, sulle qualità tecniche di Gerardi non si può discutere. Mister Domenica c'è questo impegno casalingo con la Mariano Keller, bisogna tornare di nuovo a fare i punti e soprattutto incontreremo di nuovo una squadra che non ha giocato domenica. Sì, bisogna fare i punti, dobbiamo fare tutte le settimane i punti sinceramente, perché le squadre sono tutte forti, però lo siamo anche noi, quindi tutte le domeniche dobbiamo cercare di portare a casa qualche punticino. L'unica cosa che non dobbiamo fare è creare l'assillo di dover fare per forza punti, di dover vincere per forza, perché questa è una squadra che i punti li farà quando entrerà in campo spensierata, la squadra incosciente, come piace chiamarla a me, quando entra in campo così i punti li fa, se gli diamo tutta questa pressione cominciano a pensare, questa è una squadra che non deve pensare, deve solo giocare a calcio.